Ciao, piacere, finalmente, era un po' di tempo che cercavamo di incrociarci Un anno, non so quanto è passato Te come stai? Quanto è che non dormi? Quanto è che non dormi? Infatti mi stavo guardando, va bene che c'è una webcam che è penosa però, cioè, sembro, non lo so, ho preso altri dieci anni Eh, dormo oggi, un po' dormito, ma sono contento, ma sto a pezzi Ah, c'è gente che sapeva e aspettava Ciao, Svevo, piacere, Giorgio, Mr. Rinald e Mr. Rip Allora, Svevo, Svevo, attenzione che io qua intanto sono tipista, solo che mi sta un po' stretta Scusa, come l'hai avuta? L'ho data io? Non direttamente te, io ho pagato, aspetto il film Ma allora abbiamo mandato le magliette Vabbè, poi No, io ho pagato quello da 100 euro Quello che in teoria sono venuto io, un mio amico, a vedere le riprese, credo No, perché l'abbiamo data per ora a chi è venuto sul set o era venuto alla festa di fine riprese No, perché se ti vede qualcuno di quelli, le stiamo ancora spedendo, arriverà Sì, sì, no, io ce l'ho avuta sulle riprese sul set, purtroppo non c'ero io, è venuto un mio collaboratore Ok, perché mi era un po' difficile, con poco preavviso Però non vedo l'ora di poter vedere il film, che in teoria ho accesso, non sono riuscito a vedere Allora, sei continuato, sei venuto a Zurigo Se vuoi ti ha chitto qua a Zurigo Allora, perché un tour europeo, intiamo di farlo, è più in là, quindi chissà Allora, puoi presentarti un po', penso che ti conoscono in tanti qui, se non tutti Però puoi presentarti un po'? Vabbè, parto all'ora, io nasco a Roma nel 1980 No, ragazzi, vabbè, ho fatto molto web, mio malgrado Soprattutto quando stavo in Francia, ho fatto una serie web, ho avuto un suo successo Si chiama Rital, che raccontava degli italiani in Francia, ero anche uno degli interpreti Poi sono rimpatriato a Roma ormai 4-5 anni fa, ho aperto un nuovo canale a mio nome Che è questo che ora stai facendo vedere, dove ho fatto contenuti, diciamo, di tutti i tipi Parlando un po' dell'attualità, un po' soprattutto anche di cinema, un po' di roba Fino a, diciamo, un anno fa che ho cominciato una sorta di battaglia In qualche modo contro il sistema cinema italiano La trilogia di Come muore il cinema italiano, molto fantastica Esatto, sì, che ho cercato di portare alla luce argomenti oramai, invece, quotidiani Tutti li conoscono, diciamo che sono stato il primo Poi sono diventati un po' alla portata di tutti, per fortuna E da lì, in seguito a quella trilogia, ho lanciato un crowdfunding per girare un mio lungometraggio Eccolo qui, abbiamo raccolto, sorprendentemente, più di 100.000 euro, come lo devi vedere Con più di 3.400 persone che hanno partecipato Il film l'abbiamo girato, che era a marzo di quest'anno E da ottobre lo sto portando in giro per ora per l'Italia Siamo partiti da Roma, è una distribuzione completamente indipendente, autonoma A Roma siamo riusciti ad aprirci addirittura 4 cinema Siamo stati in sala per 6 settimane a Roma Mi ricordo il primo annuncio del Multicinema Lux, è stato il primo, no? Che va dato due pomeriggi e mezza settimana Siamo partiti da Lux che ci aveva concesso praticamente 4 spettacoli Due di domenica e due di lunedì Però con la promessa che se l'avessimo riempiti avrebbe allargato la programmazione Sono stati di parola, perché alla fine l'hanno tenuto 4 settimane Quindi insomma, si sono poi appunto agganciati altri cinema a Roma E adesso stiamo facendo una sorta di tour Lì dove ci danno lo spazio Io cerco di andare ovunque, sto contattando tutti i cinema di tutte le città Purtroppo non è facile, quindi ogni tanto si apre qualche spiraglio e ne approfittiamo Ma facciamo avanti e indietro, nord, centro, sud, molto poco per ora purtroppo Tu rimbalzi, tu ci stai sempre Ogni tappa che fate ci stai tu Eh beh, sì, tranne quelle volte tipo a Milano Siamo riusciti alla fine a stare in cartellone anche lì una decina di giorni Siamo stati i primi tre giorni, ci sono stato Poi sono andato via le altre volte Se no faccio tutte le tappe E adesso torno da Bologna, Firenze Domani vado a Civitavecchia La settimana prossima Modena, Firenze, Pato Poi non riesco nemmeno a vedere No perché poi almeno dici Vedi le città ma nemmeno Perché arrivo, vado al cinema, porto la roba Facciamo la proiezione per lì Al giorno dopo riparto Cioè quindi è un tipo concerto Come sta andando? Prima l'esperienza dell'incontrare la gente Che penso che sia figa Non lo fai spesso immagino No, è una cosa che a me faceva molta paura Perché io non amo molto il rapporto col pubblico E me lo so sorbito sul web, sai bene Perché hai comunque un rapporto diretto Anche se dietro schermi o cose Però E quindi ero un po' timoroso Perché comunque Insomma fai vedere il film E poi ti devi sorbire tutto E invece Invece mi sto divertendo un sacco Per fortuna La stragrande maggioranza di chi viene in sala Poi c'ha voglia di chiacchierare C'ha un sacco di domande Cioè sono stimolati È una bellissima esperienza Faticosa Ma bellissima Sinceramente Ok Ok Intanto prendo qualche domanda Dalla chat Poi ne ho pronte anch'io un pochino Non siamo le stesse di questo progetto Oh, da regista Tanto di piacere A me mi ha affascinato molto Perché Svevo ha fatto una trilogia di video In cui dice I problemi del cinema italiano E ve lo consiglio Sul cinema andate a vedere Sono proprio belli Analizza esattamente I soli cinema Vanitoriano successo Che c'è una questione Anche difficoltà economica I cinema sono in crisi Ma vincono i blockbuster È una bella trilogia Molto più dettagliata Che ve l'ho buttata così al volo E quindi far partire un progetto È difficile Cercare Lui per tanti anni Svevo ha scritto degli script Ha proposto Ma i publisher Come Partiamo da questa fase qua Che ci vuole per fare un film In modo tradizionale oggi Le conoscenze Il culo I soldi Un passato di successo Come può un indipendente Oggi arrivare A avere un film Che esce in qualche sala Senza il tuo percorso Ad esempio No no Beh certo Un po' tutte le cose Che hai detto te Ovviamente Si devono concatenare Una serie di fattori Di certo Devi avere La perseveranza Di stare appresso Ai tanti no Alle tante porte Che manco saprono Quindi da una parte C'è questo aspetto umano Diciamo Che è indispensabile Dall'altro Devi comunque avere materiale Da presentare Tanto Tanto Perché ti diranno No 1200 volte Quindi forse 1201 Forse Ti dicono I sei O comunque Ti dicono forse E per il resto Sicuramente Devi capire Purtroppo Penso sia un po' normale In tutti i settori Devi riuscire anche A farti le amicizie giuste Nel senso Devi entrare nel settore Devi Devi avere Comunque Perché Se ci vai da Io lo vedo su me stesso Quando portavo io Lo sceneggiatore Vent'anni fa Che avevo vent'anni Volevo fare cinema E portavo lo sceneggiatore Ma nemmeno Manco se leggevano E adesso Che col percorso Che hai un portfolio pubblico Nel senso Non dice che cazzo a nessuno Cioè Ti fai vedere Guarda Hai fatto questa serie tv Che comunque Era fatta benissimo A me Io ho visto L'ho seguito Anche per un po' A un certo punto Sono un tuo fan silenzioso Io Te lo dico Sono i miei preferiti No Diciamo che Appunto Sì La visibilità sul web Mi ha aperto Poi di colpo Quelle porte Che prima erano sempre Completamente chiuse Anzi sono loro Hanno cominciato a chiamarmi Dopo Insomma il successo Sul web Ma ciò nonostante Nonostante avessi Appunto Sia Un po' di seguito Ma anche Dimostrato Di saper fare Certe cose Che non sono riuscito Mai a Portare a termine Un progetto Tanti progetti Sono iniziati Finanziati Cioè Tante produzioni Hanno comprato Delle mie idee Abbiamo lavorato Su delle idee Ma non si è mai Arrivati In fondo Perché Perché loro Hanno un Tantissimo materiale Solo una parte Arriva in fondo E non dipende Nemmeno Solo dalla produzione Che ti ha Magari opzionato Perché poi La stessa produzione Deve trovare i canali Distributivi E tutto Quindi non è detto Che li trovi E O comunque Ti mette in lista 400 progetti E poi magari Per un motivo Per un altro Si sblocca Prima un altro Poi nel caso mio Non mi sono mai Trovato fino in fondo Poi nel lavorare Con le produzioni Perché forse Sono rompiscatole Non lo so Però Sono uno che non riesce A fare le cose fatte Per me Male Ecco Non ci riesco E quindi magari Mi impunto un po' troppo E quindi per quanto sia Aperto ai compromessi Perché è inevitabile Diciamo un limite E forse questo Mi ha poi impedito Di arrivare fino in fondo In vie professionali Diciamo Con vere distribuzioni E produzioni Però sono tanti fattori E' sempre difficile Dare o consigli O spiegare come funziona E' un mondo Complicatissimo C'è molta Competizione In fondo Non c'è tanto spazio Regà A Parigi Speriamo di portarlo Ho detto Spero di fare un tour europeo Un nuovo anno E portare il film Anche sicuramente Ovviamente a Parigi Ma non solo Insomma So che c'ho tanto pubblico laggiù Quindi ci tengo Immagino Ho un po' di domande da farti Anche bella domande dal pubblico Però volevo rifinire il percorso Poi quindi hai deciso Di aprire questo Questo TP Che è una sorta di Patreon E' equivalente Era un crowdfunding Dove ti riposto Come obiettivo 15k Io quando ho visto tutto Ho fatto 15k E cazzo ci fai C'è a Zurico Manco ci affitti del materiale Però poi hai fatto Quasi 10 volte tanto Beh 18 Hai fatto 7 volte tanto E 100k Che comunque sono Sono a scorreggere Nel senso che Hai fatto il video Recentemente In cui hai detto Regà io sto a fare questo E quest'altro Guardate che Il film peggiore Che hai visto al cinema È costato 20 volte tanto Per cui Che c'hai fatto con 100k? Cioè cosa è Diciamo Diciamo che infatti I 15.000 iniziali Che erano la richiesta iniziale Erano sempre Perché anche parlando Coltipi Che è il sito Appunto la piattaforma Che ci ha aiutati Te lo dicono sempre Non sparare una cifra Di partenza troppo alta Perché La gente poi Eh si spaventa Non mi comando Vai Io non partecipo Quindi Intanto dicono sempre Parti basso E poi fai sempre Il tempo a salire Però Non c'è un problema opposto Del tipo Se la gente dice Vabbè è stato già finanziato Non finanzio più Esatto Infatti devi trovare Quella quota Che non è Né troppo alta Né troppo bassa Esattamente Perché se poi è troppo bassa Rischi Che la gente fa Vabbè C'è arrivato Sti cavoli Però diciamo Da quel punto di vista Ho cercato di fare Una comunicazione precisa Spiegando sempre Che 15.000 euro Erano praticamente Ok Se raggiungiamo Quella cifra Si può pensare Di iniziare A mettere sul progetto Non era C'era il film Perché Te lo dico sinceramente Io Noi sapevamo Con chi mi ha aiutato Simone Bracci Mi ha aiutato Un po' a tirare sulla produzione Sapevamo che per fare Questo tipo di progetto Dovevamo avere Più o meno 50.000 60.000 euro Quindi Però Sinceramente Anche parlando Con colleghi Diciamo Che avevano fatto Operazioni analoghe Di crowdfunding Avevamo capito Che Avevo capito Che più di 15 20.000 euro Era difficile Raccogliere Visto il bacino D'utenza Che c'avevo Quindi Ho detto Vabbè O quei 15 Inizi A provare A mettere sul progetto E magari vai a cercare Poi altri soldi In via Chiaro Tradizionale Però hai già Qualcosa Prendo una quota Rivertenza A crowdfunding E il restante I pochi soldi Che comunque Era un film Da manco low budget Cioè siamo al di sotto In low budget E il resto Lo vado a trovare In altri modi Invece Grazie a questa risposta Incredibilmente Partecipitativa E entusiasta Siamo riusciti A coprire Tutti quei soldi Che poi sarei andati A chiedere Quindi diciamo Il film Perché molti mi chiedono Quindi Hai stravolto il film Se ripartivo 15.000 No Perché noi sapevamo Che ci servivano Almeno 60.000 Quindi semplicemente Grazie al crowdfunding Non mi sono potuto sbattere A andare a cercare Gli altri soldi Cioè L'ho trovato Tutti direttamente Da lì Ma il film È rimasto lo stesso Il progetto È rimasto quello Ti posso chiedere Ti posso chiedere Un breakdown Dei cosi Come l'avete spesi 100.000 Oppure Troppo personale Mandate pure a cagare Ok Noi mi sono preso 50.000 euro Hai fatto bene Ma è il minimo Hai fatto bene È raro che lavori Allora I costi Diciamo Il pacchetto Che costa di più È tutto il reparto Fotografia Compreso di materiale Ovviamente Quindi La spesa più grossa È andata lì Al compartimento Fotografia Che Ripeto Comprendeva anche Il noleggio Di tutti i mezzi Per tre settimane Dopodiché C'è stato comunque Un compenso Un po' per tutti Gli attori Quasi a titolo gratuito Però Diciamo Un rimborso spese Alla fine eravamo Una quarantina Sul set Quindi Metti 40 persone Per tre settimane Già che magnano E certo Poi gli devi appunto Gli devi far mangiare E tutto quanto Spostamenti Perché eravamo fuori Roma Cioè ogni giorno Dovamo fare un'ora Di macchina Perché eravamo Nella campagna Quindi benzina E compagnia Post-produzione Tutti gli studi Per soprattutto il suono Abbiamo fatto un grosso lavoro Post-produzione al suono Ma anche post-produzione Video La color Il cuscinetto Di sicurezza Per tutti gli imprevisti E cose Ecco lì Che Se ne so andare tutti Certo Certo E quindi Quale sono durate le riprese? Tre settimane Precise Il copione era già scritto No? Era tutto già pronto L'ho ultimato Proprio quando è finito Il crowdfunding Quindi noi abbiamo Già bloccato Le settimane di ripresa Che erano appunto Di riprese Che erano per marzo A dicembre 31 dicembre È finito il crowdfunding Io ho scritto A scendiatura L'ho fidato Il 20 gennaio Infatti gli attori Che più o meno Ho già selezionato Hanno avuto il copione Un mese prima Di andare sul set Non siamo manco Riusciti a fare le prove Ce l'avevo già in testa Ovviamente Non è che Dei punto in bianco Io lavoro così Poi nella scrittura Io prima elaboro Tutto in testa E poi scrivo Quando è tutto pronto Quindi Il grosso del lavoro Mentale L'avevo fatto Però mi sono messo A scriverlo Solo Quando ero sicuro Che il film Si poteva fare E l'ho scritto In quelle tre settimane Ok Sto vedendo Sei soddisfatto Del film? Ti piace? Ti è soddisfatto? Io sono molto contento Del film Dell'esperienza Di come è andato Anche il lavoro Il set Siamo divertiti un sacco E No scusami Mi distraggo Mi pare Sì sì Lo so Tu non fai live Vero? Live è così Parli in argomento E vedi domande Quindi io Le butto lì Perché se non me le dimentico Non ho Ma questa Non mi rispondo Ma gli rispondiamo Sveva Poi ho anche domande Più piccanti ancora Ok Intanto No E quindi Ti chiudo dicendo Che quindi Sono ultra soddisfatto Sia dell'esperienza Siamo divertiti tutti E sia del film Che secondo me È venuto Per come lo volevo io Ovviamente Non è detto Che debba piacere a tutti Ma È venuto esattamente Come io L'avo in testa E anzi Al netto dei rischi Che c'erano Di certe cose Che potrebbero venire male Invece Secondo me È venuto molto bene Sono molto contento E ci aggancio Anche questa cosa Delle recensioni Non mi sembra Ha avuto poche recensioni Ha avuto Il numero di recensioni Che hanno Soprattutto i film piccoli Cioè i grossi siti L'hanno tutti coperto Parliamo sempre di un film Che ha una distribuzione Estremamente limitata Quindi non è che Ti puoi aspettare La recensione ovunque Alcuni non l'hanno visto E Abbiamo avuto Molte recensioni Di cui per fortuna La stragrande maggioranza Molto lusinghiere Quindi siamo contenti Cioè che a qualcuno Non è piaciuto Come è normale che sia Ma nel complesso Le riviste più importanti Che poi sono quelle Che mi interessano Il più a me Hanno avuto Buone parole Quindi anche da quel punto di vista Sono molto contento E soddisfatto Certo Speravo Speravo che Catturassi un po' più D'attenzione Su Beh ma Secondo me Su altri media Più grandi Però Non come si chiama Se non c'è musica stampa Non c'è niente Ma che cazzo Ma ti basta il web Svevo Hai fatto quello che hai fatto No Sì Ottieni media grandi nel web Che ne so Ma un po' Poi al Cerbero Poi al Cerbero E ti fanno Triplichi il pubblico Se vai No Mister Marra Si è pure visto il film Se hai visto Hai assietto Una recezione Si sta Assogando C'è troppo Come è stato L'arrivare al cinema Perché è rimasto Il progetto La fine era Sarebbe stato anche Possibile concluderlo Con gira del film E voi che l'avete pagato Ci avete già il biglietto Vi vedete il film Questo era in teoria Il minimo Garantissimo Garantito Se il progetto andavano E poi c'era il cerchiamo Di portarlo al cinema Mi sembra che è stato Una bella guerra Con Tribunini a vento Riuscì a fare il primo A entrare il primo Poi dopo Sta avvenendo un po' Di effetto Pala di neve Però mi sa che Entrare Sì anche lì Sinceramente Io inizialmente Pensavo che il film Sarebbe andato direttamente online Il progetto iniziale Più o meno Era Era quello Anche se speravo Di trovare Almeno qualche evento Qualche proiezione Evento Diciamo che poi Una volta finito il film Che l'ho trovato valido Secondo me Una volta sentito Anche le reazioni Di chi lo vedeva Anche negative Però diciamo È diventata un po' Una questione Di principio Perché la cosa più mi dava fastidio Era che comunque Quando io ho fatto il tentativo Di portarlo nelle sale Inizialmente Tutti mi dicevano Moltissimi Mi dicevano Ma dove vai Ma con un film del genere Ma puoi fare una proiezione Evento Così Chiami qualcuno Ma chi te viene A vedere un film così piccolo Ma dove vai Ma chi ti credi Allora è diventata Un po' una questione d'orgoglio Perché io invece Dicevo Guardate Io sono convinto Questo film Solo di suo Può fare incassi Che vanno tra i 50 100 mila euro Per adesso Per chi non è esperto Sono incassi piccoli Ma Esistono Nemmeno così piccoli Perché molti film italiani Grossi Non ci arrivano nemmeno A fare questi incassi E dicevo Questo solo di base Poi secondo me Potrebbe anche puntare a più Se piace Se c'è passaparola E tutti Mi spernacchiamo Ma dove vai Ma già tanto Se fai 5 mila euro Da incasso Quindi a un certo punto Ho presa proprio Sul personale E sto cercando Infatti sto dimostrando Che avevo Nettamente ragione Da quel punto di vista Non perché io sia un genio Ma semplicemente Che ho studiato bene Diciamo il mercato E il potenziale Anche del seguito Che ho E quindi a un certo punto Tiene un po' una questione Di principio Da questo punto di vista E poi rimane anche Un discorso coerente Con quella che è La mia idea del cinema Che è un mezzo Che deve assolutamente Vivere nella sala Quindi Io odio Infatti questo Più che L'aspetto Immagino L'aspetto di principio C'è anche il fatto Che sto a fare una battaglia Per risorgere il cinema Cioè per non farlo morire No? I video sulla morte del cinema Mi sembra quasi una richiesta Di aiuto Tra virgolette Per il cinema Era assolutamente Un passaggio coerente Con tutti quei discorsi Che ho fatto Perché se no Fai la figura Quello che si sa solo lamentà E di A me non mi fanno pa' niente Infatti Io non so uno che fa molti Supporta molti Kickstarter Patreon E cose del genere Però il tuo progetto Ho detto Figata Cavolo Poi L'ho supportato subito Grazie Il business Dell'andare al sci Dell'andare nelle sale Porta soldi Alla produzione Oppure alla fine Sono più i costi Che altro Infatti Devi aggiungere ogni volta La città all'altra È più quello che spendi Che Che la quota di biglietto Che ti arriva Immagino Sì Se parli Nel caso mio Perché molti poi Stanno dicendo Ah lo leggo anche Nei commenti Di chi un po' L'ha presa male Sto fatto che il film Non è ancora disponibile Online E alcuni rispondono Dicendo Ma ovvio Ha trovato il business Sta a guadagnare Col cinema No ragazzi Io personalmente Non sto a guadagnare Cazzo Perché L'incasso E la percentuale più alta La tiene il cinema A me va una percentuale Minore Che tra l'altro Non va nemmeno Tutta a me Immagino Ma tra l'altro Ha la produzione Che non è tutta mia Quindi voglio dire E tra l'altro Come hai detto Benedetto E ci metti Tutti gli spostamenti Gli alberghi Le cose Ma che sto guadagnando Non lo sto facendo Per i soldi Zero proprio Lo sto facendo Solo per Per il piacere della cosa E per la battaglia Ma non c'è nessun tipo Di guadagno Poi magari alla fine Sì Due euro Me i tengo Ma poi Se fosse Sarebbe pure motivato Nel senso che No appunto Oppure se parliamo di entrate Parlavi di quelle cifre di entrate Più questa di crowdfunding Messi assieme Tolto tutti i costi E tutto il resto Arriviamo Di che stiamo a parlare Nel senso che Magari Anzi Arrivassero Cioè fare polemiche su questo qua Mi sembra proprio una cosa Da poveracci Sono le cose del web Che se non trovi Qualcosa che fa polemica Non sei contento Il giorno E quindi Primo cinema Lux Sto il primo Hai dovuto fare A capocciate Oppure Sono venuti incontro loro Qualcuno Hai mai avuto incontro Oppure Hai dovuto te Spingere Tutte le buste No Incontro all'inizio Nessuno Sono io Che partendo da Roma Ho provato a contattare Quei cinema Che o conoscevo O perché qualcuno Me ne ha parlato Mi ha dato il contatto E ho fatto una gran fatica Perché Tutti mi hanno detto Mi hanno trattato tutti Con sufficienza Come fanno con chiunque Che non sia nessuno Che c'è una distribuzione dietro Perché il problema È sempre lo stesso 100.000 euro Senza una distribuzione Sì Distribuzione Penso lo intendeva Ah Dice D'incasso Dice No de spesa Sì Certo È tantissimo Noi puntiamo Quello è il sogno Di arrivarci Ancora non ci siamo I 100.000 euro In casso Ma siamo sulla strada giusta Ti stavo dicendo No Il problema è che Come l'ho spiegato Anche nei video I cinema Gli esercenti Hanno degli obblighi Con le distribuzioni Quindi tu che arrivi Senza distribuzione Lui dovrebbe togliere Un film Per cui ha sicuramente Degli accordi Già Pregressi Con la distribuzione E lo toglie Per darla a te Che non sei nessuno E non sei nemmeno Se in cassa Quindi non solo Rischia di perdere i soldi Ma rischia Di inimicarsi La distribuzione Quella grossa Che poi magari Non gli dà Un altro film grosso Cioè se no L'alternativa È che ti dice Il prossimo slot libero È fra tre anni Che già sono pieni Per i prossimi Immagino Ma manco tra tre anni Perché fra tre anni Ci avrà un'altra cosa L'unica alternativa È che ti dice Come fanno alcuni Noleggi la sala Però il noleggio della sala Vuol dire che tu Vai a spendere Almeno Almeno mille euro A proiezione Per rientrarci Devi mettere il biglietto A quindici euro Perché se no Per gli eventi privati Questa è una cosa Che fanno la zia È una proiezione Che puoi fare speciale Una volta Così Infatti Io dico sempre Non voglio il noleggio sala Che cazzo me ne frega Quello può fare chiunque Io voglio E tu credi Il problema è Tutti mi dicevano Non c'ho te Non c'ho spazio Dovado No non posso No là Forse te posso dare Uno spettacolo Io non volevo Uno spettacolo Cioè io volevo Dammi pure uno Però Dammi la possibilità Che se te lo riempio Me ne dai un altro Quindi Dire molla Qua e là Alcuni sparivano Altri manco Ti rispondevano più Altri Ti espermacchiavano Alla fine L'unico Che ha dato uno spiraglio Era questo Il cinema lux Che poi per fortuna È pure vicino a casa mia E però Anche lì Io gli ho chiesto Mi dai una settimana Di programmazione Con me Tutti i film Venerdì, sabato e domenica Ma chi te sei in cula Ciao core Dice io ti posso dare Dai Ti do due giorni Infrasettimanali Ho detto No te prego Almeno dammi il giorno Del weekend Perché comunque Ti posso dare due spettacoli Di domenica E due di lunedì Però Ripeto Loro hanno detto Però se davvero Tu me li riempi Io ti allargo La programmazione E loro ci hanno creduto E loro Hanno fatto il botto Perché poi dopo Tutti gli altri cinema di Roma Si sono magnati le mani E hanno chiesto il film Dopo Quando oramai però Il grosso Dalla prima settimana In cui il Lux Ha fatto 2500 ingressi Che so i cifre Che fa Cortellesi Praticamente Certo Quelli si sono tutti Magnati le mani E a quel punto Molti mi hanno richiamato Ma senti Ma quel film lì Che mi dicevi Adesso Non me lo vuoi dare Il problema È che adesso Lo stesso ostacolo Superata Roma Dove Diciamo Il territorio L'abbiamo coperto bene Chi dove l'avete Se l'ha visto Il problema è che Anche fuori Roma Continua ad avere Lo stesso problema Di prima Comunque fuori Roma Non si fidano Quindi me danno Sono andato a Torino Ho fatto due giornate Di programmazione Ma di pomeriggio Martedì e mercoledì Cioè capisci Che non mi danno Il weekend Raramente me danno Il serale O se me lo danno Me danno una proiezione Bologna Siamo andati Abbiamo fatto 227 posti Stracolma Per fortuna Ne faranno un'altra Firenze uguale Però non mi danno Una programmazione Sono cose Che dovrebbero Triggere bene I cinema Forse è più l'aspetto Accordi già presi Con grandi produzioni Cioè chi suggeriva Vai nei cinema Vai nei paeselli È più facile Così così Però è pure un casino Ma con i paeselli Se c'è la sala È presa La cortellese di turno Non ce n'è Niente da fare Ma è difficilissimo Poi come me Ci sono tanti altri Indipendenti Che chiedono la sala Quindi poi c'è pure Altra gente Che sta in fila Stano a testa A me me l'ha presa Io dopo T'avevo contattato Perché me l'ha presa Una cosa Quanto cazzo costa Cioè alla fine Quanto costa Uno spettacolo Se io volessi Regalare alla mia community Uno spettacolo 1000 euro Quanto costa Dipende Dipende dal cinema Te piggi in cinema Con 200 posti Pago 1000 euro E regalo alla mia community E ti riempio una sala E io sarei felice Di farlo Mi piacerebbe Ah grazie No Però deve essere Un paese meme Tipo a Queen Gentile C'è un cinema A Queen Gentile C'è un paio di paesi Valguarnera Caro Pepe Se c'è Tipo a Valguarnera Se qualcuno è in contatto Con Cina De Valguarnera Caro Pepe Il problema In cui paesini E' più difficile Rimpiesare Perché magari C'è manca la gente Sì Esatto È un po' Un casino No Comunque Se hai una sala 100 posti 1000 euro Se hai una sala 200 posti E' capace Che costa 1500 Quindi Stiamo sui Certo 10 Si vai Io li farei pure Li darei pure Come mia azienda Lo compro Lo regalo ai miei fan Faccio Una cosa bella per te Una cosa bella anche per me Alla fine sarà Alla Zurigo Offerto E Zurigo Ma sai con 1500 Si pigli soltanto La macchina del caffè Con 10 salve Però potrebbe non essere Ma so che cazzo Zurigo È un po' più complicato Però potrebbe essere Un'idea Eh bu Quando tu veni in Europa Te faccio una chiamata Vedi su Trojan Voglio prendere Un po' di domande Dalla chat Che erano interessanti Era un po' vecchio Il progetto in radio È finito lì? Ci chiedono Il progetto in radio Ho fatto un anno Nemmeno un anno Una trasmissione Sinceramente Era su commissione Cioè c'era questo Questa persona Era Roma Caputmundi Come si chiamava Ho visto un paio di cose Ero Caputmundi Lo sapevo Caputmundi Sì Ho visto un paio di episodi Che figata Eh ma avevano proposto Questo format Di un'ora Sinceramente Inizialmente Ho detto Dio non è il mio caffo Però vabbè Invece mi sono divertito molto Però è finita lì Nel senso Poi dopo Con la radio lì Insomma Chi aveva fatto La programmazione Hanno cambiato un po' Quindi era Chiaro Un po' A me piace Quando stavi iniziando A fare una specie di serie Sul turismo italiano No? Che brutta Questa città Invece ne parlavi bene Desta regione Dico Stai a vedere Che ha avuto Che cazzo ne so Qualche Qualche contatto Con Erano bellissimi Quei documentari Su Storia e geografia Bellissime Quasi tutte Erano completamente Fatte da me Per il piacere Rarissimi casi Me le hanno commissionate Anzi C'è una su Chieti L'avevo fatto su commissione Perché se no Non mi sarebbe Un momento Parlato di Chieti Ma Tutte le altre La Calabria Sicilia Tutte fatte Io ero convinto Che so No no Tutte fatte per piacere No alcuni video sul turismo L'avevo fatti Perché si Era il periodo covid E mi avevano chiesto La mano proprio Un piccolo Un piccolo gettone Per dare la mano Sull'argomento Ma se no Quasi sempre fatte per piacere Mio Domanda Fare da sceneggiatore E produttore Potrebbe essere pericoloso Per l'assenza di feedback loop Come valutate La tua idea Le prime sceneggiature Cioè questo è un mondo Di ingegneri Di nerd Per cui Per cui No vabbè Ci sta Che ti devo dire Io purtroppo Sono uno abituato Da sempre A fare tutto da solo Forse Sta nell'indipendente Voglio dire Sono 25 anni Che scrivo Produco Monto Quindi Certo è un rischio Però è un rischio Che io corro da tempo E quindi mi fido di me stesso Da quel punto di vista È sempre bene avere Opinioni anche un po' Da fuori Però io sinceramente Non No Io non le amo Preferisco fare cose Come voglio io Quando voglio io Però è un rischio Certo Bisogna riuscire a mantenere Un certo distacco Io credo di avere La capacità di capire Anche Ci provo Di avere anche Un certo distacco Da quello che faccio io Per capire Se è al potenziale O no Insomma Ci sta Federica Che chiede Questa è forse Una delle cose più ambiziose Che ha fatto Uno youtuber italiano Specialmente considerando Che non stiamo parlando Di me contro te E che ci hanno 6 milioni di iscritti Quindi non è una domanda Ma è del tipo Un Ma colpito subito Perché Perché sì Ovvio Potete iniziare a fare Tutto un trend In cui parla male delle cose O parla e basta Svevo Si è messo E ha fatto Questa è una cosa Questo sì Me lo riconosco Anch'io Nel senso Che sì Comunque Una community Non immensa Quindi voglio dire Non avevo Le spalle super coperte Quindi me la sono Un po' rischiata Però Diciamo che il mio pubblico Chi mi segue bene È abituato a queste cose Perché sono uno A cui piace spesso Cambiare Provarci Non accontentarsi Non fare sempre Le stesse cose Quindi mi ha detto bene Anche da questo punto di vista Ma perché È un pubblico Che mi sono un po' Costruito Nel piccolo Ma fedele Quanto Quanto ancora Andranno avanti Gli ospiti Dici Cazzo domandai Che cazzo ne so Hai intenzione Comunque di spingerlo Ancora nelle sale A tempo indeterminato O ad un certo punto Dici Beh adesso facciamo Basta Penso al prossimo progetto Qual è il tuo Hai un piano O non stai vedendo Che succede No Calcola che Il prossimo progetto Ovviamente Già ci penso Anche da prima Non è che uno Sta fermo Perché sta facendo questo Ci sono altre cose Che uno cerca Di portare avanti In contemporanea Per quanto riguarda La vita del film C'è talmente tanto territorio Ancora da coprire Che voglio Voglio provarci Incomincio ad essere Sempre più stanco Perché comunque È veramente stancante Però Ma soprattutto È stancante Al di là dei viaggi È stancante Il cercare le città I cinema I amarli Stare lì Accettare il modo In cui si trattano Più delle volte Ma Però Ci tengo Perché vedo Che c'è risposta Perché adesso Abbiamo aperto le prenotazioni Per Padova E vedo che già Comunque in tanti Hanno preso il biglietto Quindi c'è C'è tanta gente C'è un pubblico Abbastanza Distribuito In tutta Italia Quindi mi dispiace Ci siano zone Che non sono state Per niente Raggiunte Quindi vorrei cercare Fino all'ultimo Tentativo Di portarlo Il più possibile In giro Perché io Non ho la fretta Di monetizzare Quello sì Andando in streaming O su piattaforma Non me ne frega niente Quando sarà il momento Lo farò Ovviamente Arriverà il momento Per chi lo sta aspettando Non vi preoccupate Però non ho fretta Non me ne frega niente Di monetizzare Voglio portarlo in giro Il più possibile Grazie ragazzi Mi hai distratto Una domanda Ha un follow up In testa Mi hai distratto Porca puttana Ok adesso No Volevo chiederti Prendo un'altra domanda Piccata Mi hai detto Cosa vuoi Perché vieni qua A disturbare No Prendo altre live Ah no Ecco la ricordo Aspetta Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho È una domanda Che mi ha chiesto Di farti il mio E quello che mi aiuta Con l'editing dei video Che è anche lui Il tuo grande fan Dice Quanto secondo te Il successo Può essere Un po' provocatorio Ma no Dico Quanto secondo te Il successo Nelle sale oggi È dovuto al fatto Che ci stai tu E quanto è Per il film E basta Nel senso che Se vado a Padova E a vedermi il film Ci andrebbe La staggente Che ci va Se c'è anche Svevo in sala Oppure Questo vale Per tutti i film Non a caso I cinema chiedono A tutti gli autori Attori Di accompagnare il film Ovvio che è una spinta In più È chiaro Perché lo sto A portare in giro Fisicamente Non nascondiamoci Certo Il fatto che io Vada all'insala Spinge Magari alcuni Che sono dubbiosi A venire Detto questo A Roma Il film è stato Sei settimane Io a Roma Ci sono stata La prima settimana Le altre cinque Non ci sono andato Il film Ha continuato A girare abbastanza bene A Roma Nonostante che non ci fossi più La stessa cosa a Milano Io ho fatto due spettacoli Gli altri l'otto Non c'ero E ha continuato a girare Quindi si è creato Anche un passaparola Sul film Certo che la spinta iniziale C'è Ma è normale Ripeto Anche la cortellesima In giro per il cinema Per incentivare ancora di più Ovvio Io comunque L'avrei fatto a prescindere Che avessi avuto Una distribuzione Classica Che mi dava la possibilità Di uscire In tutto il territorio Avrei cercato comunque In tutti i modi Di andare il più possibile In giro Perché mi piace E perché aiuta Certo Ma questo non è Vale solo per me Vale per tutti Ovvio Fosse uscito E io stavo in Giappone Avrebbe avuto Un impatto più piccolo Ma comunque Non del tutto trascurabile Perché ripeto Ci sono posti In cui il film va E io non ci sono E il pubblico c'è comunque Ok Mi sentite ragazzi Mi sentite ragazzi Perché a me Si è scaricato La batteria E l'altro microfono Tu mi senti Svevo Mi sento Mi senti Ok Ho cambiato microfono Perché questi qua Dopo 5 ore Sto sotto carica Mi spiace Basta Svevo ormai Sei un caso studio Pensi che altri Si guardano il tuo esempio Sei una mosca bianca O l'inizio del movimento Allora Bisogna Sai Hai avuto No Partiamo dal presupposto Che non sono il primo ragazzi Cioè il cinema è indipendente Che cerca di ritagliarsi Uno spazio Cioè da anni Alcuni casi anche Che poi hanno avuto Un discreto Successo Esistono Quindi non è che io Sono il primo Diciamo io sono il primo Che partendo Da una fan base Quindi da una visibilità Ho reso palese Questo mondo Sommerso Sono il primo Forse che ha cercato Anche di distribuirlo Nei grandi cinema Perché di solito I film indipendenti Passano per quelle sale Chiamiamole un po' De sé Quelle dove adesso Ogni tanto vado anch'io Però io ho cercato Di fare un progetto Distribuito nei grandi cinema Nei multisale Come Lux Come anche a Milano Quindi c'è della novità Diciamo però Non voglio nemmeno Fa finta di essere Il primo nel mondo Può essere Bisogna vedere Come lo dico spesso A chi me lo chiede Bisogna vedere Fin dove arriverà Questo film Per capire Se effettivamente Può diventare Un precedente Concreto E importante Sta facendo Un bel percorso Per cui Quello che vedo È che molti ragazzi Che vengono al cinema A vedere il film Che vogliono fare cinema Dicono Mi ha colpito troppo Questa cosa Che stai facendo Anche il film Quando hanno visto Quello che stai facendo Che voglio provarci Anch'io Quindi sì Forse speriamo Che possa spingere Essere da stimolo Per nuovi ragazzi Giovani Che vogliono provare A uscire un po' fuori Dalle dinamiche Del sistema Perché diventi Veramente una cosa D'impatto Bisogna vedere Come andrà avanti E bisogna anche capire Che il sistema Tanto sa come Come reagire Tant'è che diciamo Il sistema Ora come ora Conosce benissimo Il mio caso Perché lo sanno Però fanno finta Di niente Non ne parla nessuno C'è nessuno Che vuole dire Oh Svevo Cazzo Complimenti Ti vogliamo produrre Che ne so Non arriva Una lusa A dire Ma quello che già Un giorno prima Non è quel problema Il problema è poi Sì ti vogliamo produrre Poi fai La sceneggiatura No questa no Quindi il problema Non è di base Il problema è che poi Quello che gli proponi Non lo odiano Ma No Capita che anche Altri registi Mi scrivono Grandissimo Ti appoggio Bellissimo Lo stai facendo Incredibile Sì sì Però Però poi finisce lì È più una cosa sì Nel senso Stima Però non è che poi Concretamente succede qualcosa Vedremo Aspettiamo Famo questa cosa Scusate È che È che sto in live Da 5 ore e 40 Ho superato la tenuta Mi sente bene C'è un leggero De sync Video voce Te Mannaggia la puttana Microfone È questo Ho proprio con me Sta cosa È te pare È te pare Te preoccupante Noi siamo Siamo dai contenuti Che contano No Non la forma Però vedo Gran bene domande In chat Come pensi che L'intelligenza artificiale Possa impattare Il tuo futuro È utile O per la creatività O te ne sbatti le balle Oppure Temi Partiamo dal presupposto Che non ho una competenza Così approfondita Dell'intelligenza artificiale Quindi Non so nemmeno bene Non mi sono mai posto la cosa Quello che mi preoccupa di più È come stiamo lavorando Noi Essere umani Cioè il livello Sempre più basso Che stiamo portando Alla In questo caso Alla creazione Diciamo Artisti A intrattenimento Per cui Passare alle macchine Definitivamente Non credo che cambierebbe In granché Perché stiamo Stiamo messi talmente male Insomma Io mi preoccuperei più Del prodotto Che stiamo facendo da anni Piuttosto di quello Che farà forse domani Una macchina Pensiamo a quello Che fanno noi Beh tipo In America Hanno fatto show Però i sceneggiatori Per una cosa del genere Lo so Se vede che Qualcuno Stava a trovare In modo Di 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 Lavori Qui ci chiedono Secondate come c'è stata Una risposta così positiva C'è un movimento di gente Che stufa del cinema italiano C'era una domanda non risposta Oppure Sugli altri abbiamo già detto Ci sono diversi fattori Intanto c'è Chi mi segue da tempo Che quindi Ha preso a cuore il progetto E ci tiene a vederlo A sostenerlo C'è poi una fetta nuova Che è arrivata Perché gli è piaciuto Appunto Questo Questo tentativo di cambiamento Nel senso Non solo la critica Fine a se stessa Ma anche Il tentativo di portare Poi un qualcosa di concreto Che possa in qualche modo Essere un'alternativa A quello Che oramai è il sistema Diciamo un po' Incancrinito Quindi C'è stata anche una furbizia Da parte mia Nel senso buono Che ho capito Che c'era un po' Questa domanda C'era questo interesse Ed era quello Che cercavo di spiegare Alle piccole distribuzioni A cui volevo vendere il film Io dicevo Guardate che L'ho visto dai video Che ho fatto sul cinema Dalla risposta Che c'è stata già Nel crowdfunding Ho detto Guarda C'è gente Che ha voglia Di mettersi in gioco Su questo progetto Approfittiamone Diamo ogni modo Di vedere il film Di venire in sala C'è del potenziale Loro non l'hanno visto L'hanno sbagliato Però evidentemente Anche per il periodo storico Che stavamo vivendo C'è una buona fetta di getto Perché io poi Quelli che vengono in sala Alcuni Sono appassionati di cinema Tanti invece mi dicono Guarda Io non andavo al cinema Da anni Da anni Mi sono mosso Solo perché O mi piaceva l'effetto O mi piaceva l'idea Questo progetto Quindi è effettivamente Ovviamente Parlava Parla Anche da quel punto di vista Bisognava approfittare Bello Bello Faccio un po' di domande io In retrospettiva Sei contento Che le piccole produzioni A cui le hai proposto Non ti hanno detto di no Oppure sarebbe stato Comunque meglio se Per come sta andando Sono contento Che ho la dimostrazione Che avevo ragione io Ok E sono contento Che in qualche modo Questo progetto Che era partito in maniera Così indipendente È arrivato fino al culmine Fino all'ultimo percorso All'ultimo passaggio È rimasto del tutto indipendente Dall'altra però Non posso nascondere La frustrazione Di vedere un potenziale Che non viene sfruttato Fino in fondo Perché Quello che dico io È che tutta questa gente Sta venendo a vedere il film In queste settimane Sparse di proiezioni Qua e là È quel pubblico Che probabilmente Avresti raggiunto Semplicemente Con una distribuzione classica La prima settimana Di uscita Capito Quindi questo Mi frustra Perché Mi fa capire Che c'era Questo potenziale Pubblico Che voleva vedere Questo film Che bisognava Si poteva raggiungere Agilmente Se ci fosse stata Una distribuzione Fatta bene E ripeto Poi dopo Il film Poteva pure Continuare a vivere Le sue sue gambe Magari Con il passaparola O no Vabbè Però intanto Quindi sì Da un lato Essenzialmente Quando Quando Fai l'accordo Con la distribuzione Il grosso di vantaggio Che lo facciamo Già gli slot Nei cinema E ti piazzano È un po' come Certo Tutto quello Io sto sudando Per ottenere Qualche proiezione Con una distribuzione L'avrei ottenuto Tutto in una settimana Ma soprattutto Molto meglio Cioè avrei avuto La distribuzione Anche nel weekend Avrei avuto Più sale Nelle città Una sola O comunque Più spettacoli Io ripeto Sto facendo Questi incassi Andando a Firenze Facendo uno spettacolo Andando a Bologna Facendo uno spettacolo Madonna Che fatica Eh Pensa se mi davi Una settimana Di programmazione Certo non avrei riempito Le sale Tutti gli spettacoli Però Però Il doppio o il triplo Lo facevi certo Eh capito Quindi avrei fatto Quello che alla fine Forse farò L'avrei fatto Tutto quello che io Otterrò Alla fine di questo percorso Se non meno Ripeto È quello che avrei potuto Raggiungere facilmente Alla prima settimana Di distribuzione normale E invece sarà Il totale Che riuscirò a fare C'è stata qualche Cazzata che hai fatto In questo percorso Poi dici Porca puttana Questa è stata una merda Oppure se non facevo questo Qualche errore galattico Che dici Che a rischiare Le fa saltare È andato tutto abbastanza Fatica inclusa Abbastanza bene Ma sì Che sai Sono tutte scelte Ben ponderate E soprattutto Sono sempre legate A lunghe trattative Capito Non è che Mi sveglio Fammo sta cosa Ah che cazzata Sono tutte cose Che ci lavori Per settimane E mesi Quindi valuti tutto Per bene E il più delle volte Scendi a compromessi Non è che decidi Da solo Quindi Grosse cazzate No No Sinceramente No Anzi Penso che stiamo dando Al massimo Più di questo Non ci si può chiedere C'è chi chiede Se a Milano Non c'è più Purtroppo Domani Io mi associo a questa qua E dico Dove può la gente sapere Cioè qual è il canale principale Dovrebbe informarsi Per sapere Il tuo Instagram Instagram e Facebook Lì Aggiorno costantemente Anche se adesso Ovviamente Mostriamoli Provo Natti Adesso mi stanno penalizzando Perché parlando solo di questo Ovviamente L'algoritmo Mi bulisce Oramai i miei post sul film Non li vede più nessuno Però sì Su Instagram Sicuramente Su Facebook Aggiorno costantemente Dicendo dove Quando il film è disponibile Dove Io sarò Sempre come una settimana D'anticipo Annuncio le date Lo metteremo anche Lo metteremo anche In descrizione Quando verrà ricaricato Su YouTube Questo video Il Cercate Svevo Moltrasio Su Sì diciamo Instagram è quello più aggiornato Perché poi con le storie Quotidianamente A giorno Ecco vedi là Dicembre Venerdì 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 Quindi C'è una Una proiezione In città Allora Che fatica Che succede Poi la riempi Ovviamente È ovvio Che la riempi Molti non possono entrare Perché non trovano più posto Infatti io dico sempre Per notate Perché se venite lì Poi spesso non trovate posto Però la cosa buona È che poi il cinema Ci ripensa E aggiunge proiezioni successive Però Faenza Ti dice Ok ti diamo un'altra giornata E poi sei a Modena Non ci puoi essere te No io ho sperato Però per quello dico Ma potevi pensare meglio Magari ne facevi due Io c'ero in tutte e due Già da prima Invece no te ne danno una Poi Firenze per esempio È capitato Che dice Senti ma se te ne do un'altra Tra tre settimane Ci torni E vabbè ci torno Sì però a volte capita Altre volte non riesco Però cerco il più possibile Di esserci sempre Lì dove si può E comunque appunto Vedete annuncio sempre Con sempre una settimana D'anticipo Annuncio in modo che io c'ho tempo Bello Questa è la Torino Spettacoli po' Vediamo in settimana Bello Stai Stai a mangiare bene A forza di girare Le città italiane Ma mangia troppo Infatti Bellissimo Bellissimo Ah sì Cerchiamo di fare Sempre un resoconto Poi di tutto Dele piccoli Tappe del tour Tra storie Video Foto Post Insomma Che vuol dire Rital Rital Cos'è? No Era un modo in cui I francesi chiamavano Ma chiamano ancora Gli italiani che vivono in Francia Un po' tipo Terrone Per noi Quelli meridionali In Francia L'italiano Che vive lì O che comunque Di origini italiane È Il Rital Che era un modo un po' Dispreggiativo Anni fa Oggi è un po' più Bonario Però sempre un po' Di presa in giro E quindi noi ci chiama Giustamente la serie Si chiama così Perché noi eravamo L'italiano in Francia Cosa Credi nel Futuro del cinema italiano Non so se la domanda È per me Federico Oppure per Per il nostro ospite Se è per me Io Non ho opinione Faccio proprio Non ho opinioni Vivo in un mondo Un po' a parte Ho tre bambine piccole Io Bene il cinema Andare a vedere Frozen Quando esce Frozen Il prossimo Frozen Quindi Ammetto che io Aspetto Aspetto Di vedere il film Quando sarà disponibile Digitalmente Però la porgo a te La domanda Credi nel futuro Del cinema italiano Ci speri Combatti Oppure secondo te Comunque È un elefante Io ci spero E combatto Però come l'ho detto Nel video Io non ho molta fiducia Nel cinema in generale Proprio nel futuro Del cinema Nel caso specifico Che citano qua Mauro Zingarelli Luce Lalo Lo conosco bene In realtà lui Nel suo podcast È molto fiducioso Il cinema Se lo me Rischia avere Vita breve Adesso sono risaliti Gli incassi Un po' dappertutto Anche in Italia Però sono sempre Incassi mossi Soprattutto Da alcuni grossi titoli Che spiccano Qua in Italia C'è la Cortellesi Che sta incassando Da sola Quanto Tutto il cinema italiano E questo Da un lato Vabbè Meno male Brava Complimenti E compagnia Però dall'altro Non hai risolto Il sistema Non hai migliorato Il sistema È un caso Isolato Quindi Il cinema Non lo so Non ho molta fiducia Cioè io Poi adesso Magari Appunto Torna un po' Di gente in sala Vedo quelli Che vengono a vedere Il film mio Magari mi prende Un attimo Di ottimismo Ma non c'è più Quella voglia Di cinema Che non sia solo La serata Così ogni tanto L'evento Uno al mese Non c'è più Quella passione Cinefila Anche nei giovani Ce n'è sempre di meno Quindi col tempo Rischia di Dici che Non va riaprire Tutto il mondo Del Lo streaming Ha ucciso al cinema Bla 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 È giusto che muoia Se deve morire Cioè Come si stava Difendo i cocchieri Quando c'erano le carrozze Con i cavalli Non lo so Non voglio aprire Tutto questo filone Perché è molto filosofico Però pensi che con Dopo il covid È cambiato qualcosa? Cioè Sarà Il covid Ha accelerato Ci ha fatto vedere Secondo me Ci ha aperto una finestra Sul futuro prossimo Cioè Col covid Tu hai visto come Potrebbe andare Da qui a 10-15 anni Cioè Si è accelerato tutto Nel giro di pochissimi mesi Poi adesso Si sta riassestando Però hai visto La prospettiva Il rischio è quello Che Con tempi un po' più lenti Si ritorni al punto In cui eravamo Con l'esplosione Della pandemia Cioè che la gente Non ha più Questo vero Non ce l'ha più Questa urgenza Di andare in sala Capito? Se c'è una cosa Che gli dice Di no Non ce vanno E frega niente Che strano È soltanto Generazionale Cioè noi siamo Noi siamo Poetani più o meno Per cui Alla nostra epoca Si andava al cinema Cioè il sabato Si andava al cinema Madonna mia Forse Non lo so Non lo so Sempre tanti fattori Io ho cercato di dire Anche nei video Non è mai una cosa Ci sono tante cose Che si uniscono E fanno sì Che qualcosa Un po' Perda Quell'interesse Che aveva Primo E quelli che dicono Vabbè Siccome dicevi tu Vabbè Deve morire More Ho capito Stiamo parlando di una cosa Che fino a pochi anni fa Era in piena salute Non stiamo parlando Di qualcosa Che era in agonia Da secoli Che dici basta Cioè i cinema Come dici tu Ancora fino Ancora fino a Cinque anni fa Ancora prima del covid Il cinema Era in termini economici Era in buonissima salute Quindi fa un po' impressione Che di colpo Tutti Se si sono resi conto Chi se ne frega Si può vivere pure senza cinema Ma certo Si può vivere senza tantissime cose Però perché privarcene Soprattutto Perché certo Soprattutto Con che lo stiamo sostituendo Non so le piattaforme Perché la piattaforma È semplicemente un modo Differente Di intanto Vedere i prodotti audiovisivi Ma non è che è una forma nuova C'è sempre stata la televisione Con chi stai sostituendoci Vero Stavo pensando Allo streaming Ma anche Tipo Twitch Cioè streamare Cioè io adesso Sono quasi imbarazzato Da quando Faccio una live Il venerdì sera Ci sono i ventenni Che stanno a vedere Twitch Magari Magari C'è quest'altra concezione Del Ma va benissimo Tu hai visto Ready Player One Hai letto il libro Soprattutto No Vabbè anche il film Lo dico Tra le massime del tizio Che muore Prima che inizia il film Jamie Halliway Come si chiamava Che dice Uscire fuori è overrated Cioè In quel futuro lì Tutti stanno dentro casa La gente va meno fuori casa Che cazzo ne so Sì Sì quello sicuramente c'è Però non è che sia Un aspetto Bello Nel senso che La condivisione Anche fisica Sociale È importante Vivere tutta una vita Di cose Che raggiungi Solo tramite uno schermo È un po' pericoloso Bisognebbe riuscire A alternare Anche che poi Poi te lo dico sinceramente Twitch è un mondo Che non conosco E però Che prodotto Da Twitch Ci stiamo facendo Fotarsi Sarebbe Ascoltare Il boomer Il boomer Tu di che anno sei Dicembro 80 80 77 Stiamo lì Ti lascio andare L'ultima cosa Qualche spoiler Se hai qualche progetto In mente Futuro Che ti va Di qualche segno Oppure Amicazzi nostri No io spero Ancora di più Ma maggior ragione Di poter continuare A fare cinema Quindi sto cercando In tutti i modi Di non lasciare Che questo sia Un caso isolato Questo degli ospiti Spero di poter fare Un film Non più Passando Per queste vie Del tutto indipendenti Ci sto lavorando Speriamo bene Purtroppo è un mondo In cui finché Non va fino in fondo È inutile dirselo Quindi Sto lavorando Sperando di riuscire A continuare La mia carriera Cinematografica E adesso Tutte le mie attenzioni Sono su questo aspetto Spero di poter dare Buone notizie Presto Però Non se ne sa mai Non se ne sa mai Grazie Svevo È stato un piacere Era una vita Che Ce l'abbiamo fatta Quindi Vi raccomando Ragazzi Seguite Svevo Su Instagram O su Facebook Poi si Vecchi boomer Grazie al cazzo Facebook Che ne so C'è l'account Su Snapchat E pubblica Ma che è? Non lo so Neanch'io Non lo so Neanch'io Su TikTok Non lo fai TikTok Comunque Instagram È sufficientemente Non boomer Per cui Trovate tutte quante Le date Settimana per settimana Prossime date Civitavecchia Il primo Ma tutto già pieno Non ve lo dico È già pieno No no Civitavecchia Ancora c'è posto Venite C'è qualcosa Civitavecchia Faenza Modena E Padova Settimana prossima Da venerdì in poi Poi vi dico Poi c'è pure Napoli A breve Quindi gli amici napoletani 12 dicembre Mi raccomando 12 dicembre Napoli Speriamo che durare più Dai cavolo Sul Napoli Almeno qualche serata Eh lo spero Vietamente Svevo grazie È stato un piacere Ma piacere è stato Grazie mille Per l'invito Poi ti iscriverò Quando ricaricheremo Il pezzettino Fatto bene Su YouTube E via Perfetto Ciao 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 Buona maratona Ciao